Immaginate di svegliarvi una mattina di primavera del 1948, in una Roma che brulica di vita e di promesse, senza sapere che il destino sta per prendere una svolta completamente diversa. In questa realtà alternativa che ci siamo inventati, il cuore pulsante del comunismo italiano, Palmiro Togliatti, non riesce a superare un attentato alla sua vita. Nella nostra storia lui sopravvive, ma qui il suo tragico destino cambia tutto. Pensate un po', un singolo evento che incendia la miccia di una serie infinita di fuochi d'artificio, cambiamenti che nessuno avrebbe potuto prevedere. Senza Togliatti, il partito comunista italiano perde la sua bussola. Quel che era moderazione diventa estremismo. Le sue strategie, un tempo calcolate, si trasformano in azioni impulsive. Immaginate la piazza piena di gente che, sentendo la notizia, capisce che nulla sarà più lo stesso. E l'assenza di Togliatti porta al potere voci più radicali, gente che non teme di spingere l'Italia su un sentiero mai battuto prima, lontano dall'Occidente e dalle sue promesse di ricostruzione post-bellica. In questo scenario, il partito comunista italiano non solo sopravvive, ma prospera, attirando a sé una moltitudine di italiani stanchi delle promesse non mantenuti dell'epoca post-guerra. L'idea di un'Italia comunista, un tempo solo un sogno lontano, inizia a prendere forma. Con un sorprendente colpo di scena, il partito conquista la maggioranza, formando un governo che promette di ribaltare l'ordine stabilito. Cominciano così a circolare proposte di riforma radicali. espropriazione delle grandi industrie, riforma agraria che non ha precedenti, collettivizzazione delle terre. Ecco, immaginate la confusione, l'eccitazione, la paura e la speranza che si mescolano nelle piazze e nelle case di ogni città e paese. Ma non è tutto oro quel che luccica. Questi cambiamenti, benché accolti con entusiasmo da una parte della popolazione, incontrano anche resistenza e ostacoli. I proprietari terrieri, gli industriali, l'elite tradizionali vedono le loro fortune minacciate e non stanno certo a guardare. L'Italia si divide, le tensioni crescono e quello che era un sogno d'unità si trasforma in una lotta interna che minaccia di lacerare il tessuto stesso della nazione. E poi c'è l'isolamento internazionale. Senza il supporto del piano Marshall, l'Italia si trova economicamente e politicamente isolata, ma invece di cedere si rimbocca le maniche e cerca nuove alleanze guardando verso l'est, verso l'Unione Sovietica e gli altri paesi del blocco comunista. L'Italia, un tempo crocevia del Mediterraneo e ponte fra l'est e ovest, ora sceglie decisamente da che parte stare. Nell'immaginario scenario di un'Italia comunista post-1948, la morte di Togliatti e la successiva radicalizzazione del Partito Comunista italiano hanno portato a una serie di trasformazioni profonde che hanno influenzato non solo la politica, ma anche la cultura, l'arte e la letteratura del paese. Senza Togliatti, la politica e il Partito Comunista prende una direzione più radicale, guidata da figure che vedono negli Unione Sovietica non solo un modello, ma un alleato essenziale e questa nuova leadership agisce rapidamente per consolidare il suo potere, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione per garantire che l'Italia si allontani definitivamente dall'influenza occidentale e si avvicini al blocco sovietico e si assiste a una accelerazione delle riforme socialiste, espropriazione di grandi proprietà terriere e industriali, collettivizzazione dell'agricoltura e nazionalizzazione dell'industria chiave. Il governo promuove anche una politica di piena occupazione, supportata da massicci investimenti in infrastrutture politiche e in programmi di welfare. In questo clima di fervore rivoluzionario, l'arte e la letteratura fioriscono, ma sotto una nuova luce, gli artisti e gli scrittori, ispirati dall'ideologia comunista e dall'esempio di altri paesi sotto l'influenza sovietica, si dedicano a opere che riflettano i valori della nuova Italia. La letteratura si arricchisce di romanzi e poesie che celebrano il lavoro, la solidarietà e l'eroismo del popolo nella costruzione della società socialista. E anche l'arte visiva subisce una trasformazione, i murali e le sculture pubbliche esaltano la vita dei lavoratori e la lotta contro l'oppressione, mentre il cinema si concentra su storie e di che mettono in luce le conquiste sociali del comunismo e la lotta contro le ingiustizie. Tuttavia, non è tutto idilliaco. La stretta del governo sulla libertà di espressione significa anche che ogni forma d'arte o letteratura ritenuta in contrasto con i valori socialisti viene censurata o scoraggiata. E questo porta a un dibattito interno tra gli artisti e gli intellettuali sulla linea tra la promozione delle idee socialiste e la soppressione della creatività e della libertà di pensiero. Il cinema diventa un potente strumento di propaganda, con opere che esaltano le virtù del comunismo e la figura dei suoi leader. Al tempo stesso, alcuni registri riescono a navigare le acque turbolente della censura, creando opere che, pur rispettando i dettami ufficiali, riescono a offrire una visione più sfumata e critica della realtà. La trasformazione politica dell'Italia porta anche a un rinnovamento dell'istruzione con la storia e la letteratura che vengono insegnate attraverso una lente marxista, enfatizzando il ruolo della classe operaia nella storia del paese e del mondo. Gli studenti studiano i classici del marxismo-leninismo, ma anche le opere di scrittori e poeti italiani che hanno abbracciato la causa comunista. In questo mondo alternativo, l'Italia comunista emerge come un laboratorio vivente di esperimenti sociali, politici e culturali, e sebbene affronti molte sfide, tra cui l'isolamento internazionale e le tensioni interne, la sua trasformazione radicale offre uno spunto di riflessione su come un singolo evento possa deviare il corso della storia, influenzando non solo la politica, ma anche l'arte, la letteratura e l'identità culturale di un'intera nazione. Bene, ora che abbiamo esplorato come la morte di Togliatti e la successiva scesa del Partito Comunista Italiano a una posizione di dominio abbiano riscritto la traiettoria politica, culturale ed artistica dell'Italia, possiamo passare a guardare più da vicino le conseguenze immediate di questi cambiamenti. Con l'installazione di un governo comunista, l'Italia si trova di fronte a enormi sfide economiche e politiche. L'isolamento da parte delle potenze occidentali spaventate dalla virata sinistra del paese porta a una situazione di embargo economico. Tuttavia, questo scenario obbliga l'Italia a diventare più autosufficiente, spingendola a sviluppare nuove alleanze commerciali e politiche, soprattutto con l'Unione Sovietica e gli altri stati del Patto di Varzavia. Immaginate una serie di accordi bilaterali che aprono le porte a scambi culturali, tecnologici e agricoli, facendo dell'Italia un punto di riferimento per il socialismo nel Mediterraneo. Sul fronte interno, le riforme radicali iniziano a dare loro frutti, ma non senza dolori crescenti. La collettivizzazione delle terre e l'esproprio dell'industria provocano una forte resistenza da parte di coloro che vedono minacciati i loro interessi e privilegi. Tuttavia, queste misure trovano anche un sostegno entusiastico tra le classi lavoratrici e i contadini, che per la prima volta si vedono garantire diritti e protezioni. Le città e i paesi sono teatri di manifestazione sia a favore che contro il nuovo governo, riflettendo una nazione sicuramente divisa ma vibrante, piena di dibattito e di speranze per un futuro differente. La riforma dell'istruzione diventa un pilastro centrale della nuova Italia comunista. La scuola è vista come il mezzo per creare una nuova generazione di cittadini consapevoli e impegnati, radicati nei valori socialisti. I programmi scolastici subiscono una profonda revisione, con un'enfasi sul pensiero critico. La storia del movimento operaio e la letteratura marxista e questo nuovo approccio all'istruzione mira a eliminare l'analfabetismo e a promuovere l'uguaglianza di accesso all'educazione per tutti, indipendentemente dal cetto sociale o dalla provenienza geografica. E in questo contesto emergono nuove figure politiche e culturali che lasciano un'impronta indelebile sulla società italiana. Intellettuali, artisti e politici del calibro che l'Italia non vedeva da anni si mettono al servizio del progetto comunista, contribuendo a dare forma a una visione unica dell'Italia socialista. E questi leader emergenti, tuttavia, sono anche soggetti a una rigorosa linea di partito che talvolta limita la loro capacità di esprimere critiche o proporre cambiamenti radicali alla direzione presa del partito comunista. Sul piano internazionale l'Italia comunista cerca di navigare in un mondo polarizzato dalla guerra fredda, posizionandosi come mediatore tra est e ovest, pur mantenendo stretti legami con Mosca. E questo equilibrio delicato apre nuove possibilità diplomatiche, ma espone anche il paese a pressione e manipolazione da entrambi i blocchi. Ecco, in sintesi, le conseguenze immediate della svolta comunista in Italia sono complesse e sfaccettate. Mentre il paese si avventura in un territorio inesplorato, affrontando sfide sia interne che esterne, emerge anche un senso di possibilità e di rinnovamento. E la promessa di un'Italia più giusta ed ugualitaria ispira speranza in molti, anche se il percorso per realizzarla è costellato di ostacoli e di resistenze. E questo periodo di transizione ricco di fervore rivoluzionario e di sperimentazione sociale segna l'inizio di un capitolo completamente nuovo nella storia italiana. Con il passare dei decenni, l'Italia ha affrontato e superato innumerevoli sfide. La transizione a un'economia collettivizzata, sebbene inizialmente difficile e segnata da resistenze e problemi logistici, ha alla fine portato a un modello economico unico. L'industria nazionalizzata e l'agricoltura collettiva, integrate da un sistema di welfare estensivo, hanno creato una società più equa e meno divisa e le disuguaglianze economiche, pur non completamente eradicate, sono significativamente ridotte rispetto al passato. La cultura e l'identità nazionale italiana si sono evolute in modo significativo in questo contesto. L'arte e la letteratura, liberate dalle strette del dogmatismo iniziale, hanno iniziato a riflettere una più ampia gamma di esperienze e divisioni. Il cinema, in particolare, ha acquistato fama mondiale con registi che utilizzano la piattaforma per esplorare non solo i temi della giustizia sociale e della lotta di classe, ma anche questioni più universali di identità, amore e allineazione. Le produzioni cinematografiche italiane sono celebrate nei festival internazionali, mostrando come la cultura possa trascendere le barriere politiche e unire le persone attraverso storie comuni. Sul piano politico, dopo le turbulenze iniziale, l'Italia ha stabilito un sistema di governance che, pur rimanendo fedele ai principi socialisti, ha imparato a incorporare elementi di democrazia partecipativa. I cittadini sono incoraggiati a partecipare attivamente alla vita politica attraverso consigli locali e assemblee, rendendo il processo decisionale più inclusivo e rappresentativo. Questo modello ha aiutato a mitigare alcune delle tensioni interne e ha fornito un grado di legittimità e stabilità al governo comunista. L'Italia comunista ha anche giocato un ruolo unico sul palcoscenico internazionale, servendo da ponte tra est e ovest durante la Guerra Fredda. Ha contribuito a facilitare i dialoghi cruciali e a ridurre le tensioni tra le superpotenze. E nel mondo post-Guerra Fredda ha continuato a promuovere una politica estera basata sui principi di pace, di solidarietà internazionale e cooperazione nello sviluppo. Tuttavia, non è tutto perfetto in questo scenario topico. La società italiana, pur beneficiando di un alto livello di servizi pubblici e di una ridotta disuguaglianza economica, affronta nuove sfide. La libertà di espressione, sebbene più ampia rispetto ai primi anni della rivoluzione, rimane un campo di tensione, con il governo che lotta per bilanciare controllo e libertà. Inoltre, l'innovazione tecnologica e la competizione globale presentano sfide continue per un'economia che cerca di rimanere fedele a suoi principi socialisti, pur essendo competitiva a livello internazionale. E in questo lungo termine, l'Italia comunista emerge come un esperimento sociale, politico e culturale complesso, con successi e fallimenti. E la sua storia alternativa ci invita a riflettere sulle potenzialità e sui limiti delle ideologie politiche quando si scontrano con la realtà di governare e vivere in un mondo complesso e interconnesso. E la visione di un'Italia diversa, forgiata da eventi storici immaginari, ci spinge a interrogarci sulle infinite possibilità che la storia potrebbe offrire, ricordandoci che il futuro è sempre aperto a nuove direzione e interpretazione.